ci posizioniamo a terra mettiamo i piedi sotto ai glutei controlliamo con le mani la distanza dalla dal bacino dal corpo controllo che la punta del piede non vada verso l'esterno cosa che tenderà ad accadere alto superiore extra ruotato porto il mento verso il petto per ora sento la schiena appoggiata più o meno simmetrica tra la parte destra la parte sinistra la zona lombare invece attraverso la flessione delle anche si ritrova già appoggiata a terra mento al petto edilizio gradualmente a respirare in maniera corretta eseguendo dei respiri lunghi ordinate ampi in aspetto fuori l'aria fuori l'aria fuori l'aria parendo al e gradualmente porto la mia consapevolezza all'ombelico e al perineo quindi tiro l'ombelico in dentro con gentilezza e con la stessa gentilezza comincio lentamente a trattenere la pipì e più che un trattenere la pipì è un sentire consapevolizzare le zone urogenitali del bacino profondo in sferma prezzo, aria e spiro l'ombro prendo aria fuori l'aria ispiro aumento un pochino lo spazio dietro la lombare mandando il bacino in un arrotolamento anteriore creando spazio sotto la zona vertebrale lombare e spiro faccio il contrario con il bacino tiro l'ombelico in dentro il che comporta un avviamento lombare in sferma e spiro prendo aria prendo aria espiro avviatrisco prendo aria aumento lo spazio anche dietro il tratto cervicale cuore l'aria di nuovo in sferma cuore l'aria gli ultimi in sferma espiro in sferma espiro lascio le curve allungate sia lombare sia cervicale lombare comincio a spingere dolcemente la lombare sul tappetino attraverso l'ombelico attraverso l'addominale e senza perdere l'appianamento della colonna e gli appoggi quando putto fuori l'aria porto un braccio per volta verso il piede inspiro lo spingo e fuori l'aria lo riporto giù quindi eseguo una respirazione lunga che mi deve bastare per tutta la durata del movimento in sferma fuori l'aria porto giù il destro inspiro lo spingo lontano fuori l'aria ritorno inizio ad aumentare il ritmo della lezione inspiro il sinistro spingo fuori l'aria ritorno inspiro il destino spingo fuori l'aria ritorno inspiro il sinistro porto anche il destro bene apro il dorso della mano tutte e cinque le dite in appoggio ed inizio a circondurre le spalle lentamente uno due cerca di non staccare le mano ovviamente se poggiano quattro altrimenti rimarranno lì in sospensione che vorranno andare sempre più giù sei sette otto nove dieci cambio il verso del movimento delle spalle uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci lascio le braccia nel massimo della lunghezza e ricomincio a giocare con le zone vertebrali inespiro delicatamente in arco le lordosi sempre ombelico in dentro mentre eseguo l'inarcamento fuori l'aria appiatisce e spinge le braccia in asco in asco fuori l'aria due in asco fuori l'aria tre in asco fuori l'aria quattro in asco fuori l'aria quattro in asco in asco in asco l'ultimo in asco in asco fuori l'aria più attisco tutto mando il braccio nel massimo della loro lunghezza a me spiro profondo grazie a tutti